Allo showroom Murrina Classica Veneziana, sconti del 40 e del 50%? Vieni presso il nostro punto vendita, in via Matteotti 4042 ad Avellino. Grande successo per la quarta camminata rosa che partita da Mercogliano e arrivata ad Avellino, un esercito rosa che ha voluto manifestare per diffondere l'importante messaggio della prevenzione. Dal tumore al seno è possibile guarire questo che da anni, sottolinea il dottor Carlo Iannace, al quale oggi fanno da eco migliaia di persone. La soddisfazione di tutte le donne che comunque oggi sono con noi, sfirono dopo la malattia, comunque dimostrano che possono guarire, dimostrano che è solo la prevenzione il momento più importante, quello che ci permette di trovare una diagnosi e che ci permetterà poi di essere una persona normale, di poter dimostrare come è stato un aggiorno ed è bellissimo. La camminata rosa si è chiusa con il tradizionale lancio di palloncini sulle note di E' Già di Vasco Rossi. Io sono ancora qua, E' Già, E' Già.